Musica Se uno riusciva a entrare in uno stabilimento perché ci aveva detto il papà o lo zio o qualcuno, se no sia Carenno che Sopracornola o compreso diciamo anche Lorentino per dire che i paesi lì erano tutti indirizzati all'edilizia. Finito l'elementare, io avevo sempre il papà in campagna, lui aveva sempre due mucche e una giovane, due o tre mucche, pecora, la capre e poi a 14 anni questi rossetti il proprio papà del remo gli dice a mio papà, mi ricordo bene, gli dico, non fai la cosa che tu lì, come dire che ero obbligato ad andare con loro, come che mi aiutai insomma a portare qua qualche soldo, una roba così. E lì sono andato all'eco e allora chiamavano l'apprendista, ma in dialetto dicevano il boccia perché dovevi servire il volatore. Sono andato prestissimo a lavorare, a fare allora il boccia, si partiva da Sopracornola, si andava a prendere il treno a Calozio, si partiva alle sei, mi sembra sei e qualcosa di mattino, si tornava alle sette di sera a casa perché purtroppo dieci ore di lavoro, sempre e compreso anche a sabato, sono andato anche un bel po' di anni a scuola a Bergamo, scuola a muratori, alla domenica però si andava, è stata molto dura, molto dura, però allora non ci si rendeva conto perché era quella la vita, era lì, eravamo tutti sullo stesso binario e quando finivi il lavoro che arrivavi alle sette c'era anche un petto di terreno da lavorare, anzi due o tre pezzi in giro per Sopracornola e le zone e dovevi fare anche quello. Non c'era la busta paga con tutti questi, capito? Alla fine settimana mi davano qualcosa, non so, mi ricordo quei mille lire da allora che erano un foglio di una pagina di giornale perché erano talmente grandi, ma nel frattempo mio padre mi tira via lui dal cantiere del muratore e mi manda con un marito di una sua parente a Milano e mi fa l'idraulico e mi toglie, capito? Vai giù di quello lì, ma io ho malavoglia ma non sono stato capace di dire di no all'inizio dell'estate ma io sono stato giù fino a Natale poi, io non ce la faccio più o sta giù perché quel mestiere lì non mi piace e non sono più andato, però sono andato ancora a Milano, fino a 21 anni a Milano, ma lì stavo bene con il muratore e lì ho imparato il mestiere perché ho capito dopo che Milano era l'unico posto dove l'edilizia cresceva insomma, i miei maestri erano dei maestri per lavorare la pietra ma nel campo del cemento armato è arrivato dopo proprio il boom, fare il ferro, poi sono arrivate le ditte che fanno il ferro le ditte che fanno questo qua, le ditte che fanno quella, l'artigiano è sparito eh ma noi là facevamo tutto, il banco del ferro, aveva una praticità e un muratore di montagna che non era mai andato in città ha dei problemi a costruire i matonini perché il mattone, la regola è per far su il muro, ha una testa, due teste, 25 io ho visto dei muratori che poi quando ero giù a Milano insomma sono venuti giù e avevano avuto quei problemi lì di costruire il muro, partire da zero e noi che avevamo roversotti 17-18 anni stavamo lì a curarli e poi nel frattempo un mio cugino qua che è andato a Ginevra mi porta a Ginevra e lì rimangono lì per sette anni lì di Milano Tantissima gente andava in Svizzera, pochi in Francia ma in Svizzera un mucchio di muratori carenno sopra Cornola partivano e tornavano per i santi andavano via per, era tradizione per San Girolamo l'8 febbraio e tornavano per i santi magari qualcuno veniva a casa anche nel frattempo della stagione però la chiamata era quella parlavano di 600, 600 qualcosa di carenesi che erano su eh, migranti eh tanti erano su quella famiglia a un certo punto mi dicono c'è anche in Italia la Svizzera adesso, capito? questa frase voleva dire che c'era molto lavoro anche in Italia e allora rientriamo e si mettiamo in proprio per una dozzina d'anni lavoriamo come artigiani per costruire casette, villettine così abbiamo costruito per esempio il primo villa che abbiamo costruito che era un filosofo che era qua, qua a casa nostra, Bottadini quello è stato un po' il mio maestro culturale eh perché mi correggeva personalmente nei verbi no? Poi pian piano si passava di grado anche sotto l'impresa dopo un po' di anni ho fatto tantissimi anni il capo capocantiere e io mi son fatto 37 anni dalla Iroldi e poi andato via dalla Iroldi mi aspettava l'ESPE la scuola muratore di Lecco aspettava che andassi penso di là per andare con sono stato su 16 anni e fare l'istruttore, l'insegnante nella scuola nel cantiere e anche lì mi è piaciuto moltissimo molto quei ragazzi che non era facile quindi se dovessi... mi dico ti tiro dietro gli anni parti da là andiamo che non... beh l'ho fatto forse con passione con... così ok